ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video oggi vi farò vedere cosa c'è sul mio A50 con la cover dei BTS vi voglio chiedere di iscrivervi al mio canale di lasciare un like e di commentare iniziamo subito la prima cosa che vi faccio vedere sono le mie canzoni che cosa non stavo andando ci è partita una musica a caso vabbè non commento allora vabbè questa è la mia lista di musiche preferite di qua Elvis Crispo è un diavolo vabbè un po' queste qua a caso messe ma vi faccio sentire questa qua si chiama la coda del diavolo questo è proprio bello ci vediamo ancora è un'idea che si chiama la coda è un'idea che si chiama la coda un'idea che si chiama la coda solo con te si chiama la coda tutta la notte Iscriviamo davvero puttana notte Iscriviamo davvero puttana notte ho fatto una piccola pausa ora vediamo le altre canzioni queste sono tutte qua vabbè poi tengo tiktok non faccio di qualche mio tiktok qua c'è un pizzato qua questa è la nipota di Greve si si tocca iu iu agno si è capito ha capito o no questa rimbambita è buonissima non ci rompo la capo che cazzo è non c'è vuoi camminare questa rimbambita ma mica camminare questo oggi non è giornata senti vabbè ragazzi non lo so non cammina questa se prendo la penna aspetta agli ure agli ure questo gioco non va perché quindi allora c'è una genibrata con la penna guardate qua ma perché non va perché non vai perché non vai perché non vai vabbè mi prenderete il inzucato Gesù Cristo basta mi sono rotta questo gioco mi ha fatto innervosire ora che cerchi che possiamo cercare su google che mi da che posso cercare vediamo un po' un po' ora ora ci ho chiesto i tobi di fogna vediamo che troviamo che zucco una grossa vedete questo ci dà la natura che e quante ma c'è il piede le mie frute allora ma non è che fai la di zuccole che stanno aca queste vanno tutte in mezza la via guardate qua date in mezza zuccole queste si nascondono dove stanno le galline queste zuccole questo gruppo di zuccole non frega non mangia zuccole 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 oh ecco ecco i serpente oh no tufolino oh no non devo mangiare il mamba nero il più lungo serpente africano è nato per cacciare un incubo mortale per ogni animale ma cosa è un cuccio boh no 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 che peccato è finita è finita brava la vittima mi piace il corso è finita è finita è finita è finita la mia il dacci dentro ciao